E ci ritroviamo insieme per parlare di buone pratiche come di consueto. Oggi, fra Italo, un esperimento straordinario, non l'avevamo mai fatto. Abbiamo quattro interlocutori, contemporaneamente sono i volti e i nomi di Smiley Academy Italia. Bentrovati ragazzi, ciao a tutti. Benvenuti ragazzi. Ciao a tutti. Ecco, io non perderei tempo, visto che ne abbiamo poco a disposizione, e chiederei subito a Roberta Bonacossa che cos'è Smiley Academy. Ciao, ciao a tutti. Sono molto contenta di essere qui. Allora, Smiley Academy è un progetto veramente innovativo e dal mio punto di vista straordinario perché punta a un nuovo approccio alla sostenibilità. Noi la conosciamo soprattutto dal punto di vista ambientale, ma la sostenibilità è anche sociale, economica e umana. Smiley Academy propone un nuovo modello di business, anche di business, di fare business in modo sostenibile unendo la cultura e la saggezza delle popolazioni indigene insieme a quella che conosciamo di più, quella più occidentale. e quindi unire le culture per creare un modello diverso per proteggere le persone e l'ambiente. Siamo in realtà in partenza, poi i miei colleghi parleranno anche meglio di quello che faremo nei prossimi mesi, ma ci sarà la prima experience in India in cui ci saranno tanti giovani per confrontarsi con le popolazioni indigene, comprendere gli impatti dei cambiamenti climatici e immaginare dei nuovi modelli di eco-business che però uniscono tutte le dimensioni della sostenibilità. Quindi veramente un nuovo modo di fare culture e business perché proprio abbiamo bisogno di questi nuovi modelli. Grazie Roberta. E vorrei chiedere a Matteo, in qualità così anche di co-founder, quali sono i settori di riferimento? Allora, ciao a tutti, i settori di riferimento per Smile Italia sono principalmente due al momento e il primo è tutti basati su tre pilastri che sono cibo, clima e salute. Il primo progetto in corso è Peter Dan, dove Dan sta per disturbi dell'alimentazione e della nutrizione. è un progetto in collaborazione con Food for Mind del professor Leonardo Mendolicchio e è un progetto che vuole sensibilizzare a tutta la problematica dei disturbi d'alimentazione e basandosi su una co-creazione di esperienze con chi soffre da questi disturbi. La seconda progettualità invece è una progettualità che stiamo sviluppando sul territorio italiano, in particolare a Monza, quindi si basa soprattutto sul concetto di sostenibilità e identità del Made in Italy e che stiamo lavorando con il senatore Rampi, a cui lascio la parola per approfondire meglio il progetto che avrà luogo nel parco di Monza. Grazie Matteo, hai fatto anche da presentatore. A te la parola a Roberto Rampi. Sì, buongiorno. Sì, abbiamo scelto Monza perché Monza ha una particolarità unica nel mondo, un parco cintato, il più grande parco cintato del mondo, che è insieme un parco storico, è un luogo di produzione agricola, c'è una scuola di agraria, ci sono le cascine, è anche il luogo dell'autodromo, tutti lo conoscono prevalentemente per quello, ma è un territorio che ha un contorno di aziende legate al mercato del legno, al mobile, e che ha una storia che è quella dell'origine, dell'ecologismo, troppo nata da un grande dramma, quello dell'incidente di Seveso. Noi pensiamo che unire tutte queste cose possa aiutarci a immaginare davvero questo concetto di impresa sostenibile che faccia del talento, della capacità artigiana, della capacità di impresa un modo per cambiare meglio il mondo. Molto bello, e noi non vediamo l'ora di avvicinarci anche di più alla vostra realtà, ai vostri eventi, per ricevere i contenuti importanti, dei quali vi fate non solo ambasciatori, ma proprio attuatori, per cui continueremo a seguirvi con attenzione, e con alcuni di voi lo facciamo già da tempo, è il caso di Potito, Potito Ruggero, che nel progetto Smile Academy interpreta il, come dire, si fa anche lui attore di quel protagonismo intergenerazionale, perché è il più giovane di tutti, è vero Potito? Sì, sì, io ho 16 anni e sono stato nominato come focal point per la generazione Z per quanto riguarda l'Italia. Ecco, Smile Academy è l'acronimo di Sustainable Mindset at Inner Level for Youth, quindi è dedicato ai giovani e questo grande progetto che è Smiley Academy, infatti, è proprio dedicato a giovani che saranno formati per diventare degli imprenditori sostenibili, giovani sotto 30 anni. E poi abbiamo uno dei cofondatori che è giovanissimo, Matteo Salerno, e quindi questa è un'ulteriore conferma di questo modello che è intergenerazionale che abbiamo. Grazie a tutti, grazie a tutti. e la parola a Roberta Bonacossa. Grazie, sì, appunto penso che la peculiarità e la bellezza di questo progetto, anche la sfida in realtà, sia proprio quella di abbracciare tutte le dimensioni e avere un approccio integrato, perché in generale, ma anche nella sostenibilità, siamo molto abituati a lavorare per compartimenti stagni, perdendo l'interconnessione che esiste tra ogni settore, ma soprattutto tra gli esseri umani e la natura. e quindi questo è quello che con i progetti in Italia, con i progetti in India e negli altri paesi vogliamo costruire man mano queste buone pratiche per ritrovare questa connessione. Matteo, a te. Io mi ricollego tantissimo alle parole di Roberta perché Smiley nasce proprio da una libertà progettuale e tuttora ogni progetto che vi è pensato nasce proprio da un senso di vedere cosa ci circonda, capire quale può essere una soluzione e unire tutti questi puntini in un circolo virtuoso. Roberto! Questo è come definirlo. Sì, e questo in fondo è stato anche uno dei motivi che ci ha spinto a scegliere Monza perché l'estate scorsa Monza è stata colpita da due eventi climatici estremi che in due minuti l'uno, quindi quattro minuti totali, hanno eliminato 30.000 alberi che erano lì da qualche secolo. Ecco, allora noi dobbiamo anche capire che il nostro cambio di paradigma e di modo di comportarci è urgente perché senza drammatizzare però se in quattro minuti possiamo perdere 30.000 alberi se continuiamo così rischiamo che quello che abbiamo ricevuto non lo troveremo più. Grazie Roberto. Potito, ti chiederei dove, su quali canali possiamo seguire il vostro lavoro e tutte le attività di Smiley Academy? Principalmente sui social, in particolare su Instagram e poi sul sito di Smiley Academy. Ok, perfetto. Tra l'altro possiamo anticipare, mi fa piacere farlo oggi, che siete tutti e quattro collegati con noi e c'è anche Claudia Laricchia che ci sta seguendo e che ringrazio per aver svolto un prezioso compito di coordinamento non solo all'interno del vostro progetto ma anche per la realizzazione di questa intervista. Sono felice di annunciare al pubblico che ci segue che proprio con Smiley Academy, proprio con voi attiveremo un format di news che ci accompagnerà nel corso della stagione, di questa stagione della regola della sostenibilità e fra l'Italia siamo particolarmente felici perché i nostri interlocutori dimostrano ancora una volta che la sostenibilità è un tema sentito e vissuto soprattutto dai giovani per quanto sia importante che in maniera intergenerazionale, come dicevamo prima, tutti quanti ci facciamo carico delle nostre responsabilità. Soprattutto vissuto dai giovani e poi con questo bellissimo entusiasmo di giovani, questo bellissimo sorriso per il quale io mi complimento, veramente vi ringrazio perché dà tanta tanta gioia ed è questa la maniera di comunicare anche la sostenibilità. Va bene ragazzi, allora come promesso ci ritroveremo presto e veramente grazie di cuore non solo per la vostra disponibilità a questa intervista, alle news di Smiley Academy ma proprio grazie per quello che fate perché è davvero molto importante, molto prezioso ed è un bellissimo esempio per tutti noi. Grazie mille. Grazie di cuore, a presto. Grazie mille.